Open Day oggi nei pressi Santa Maria di Gesù e Benedettine a Gela per offrire alle famiglie dei bambini che il prossimo anno frequenteranno la prima classe l'opportunità di incontrare gli insegnanti, di conoscere le metodologie e la didattica applicate. Durante la giornata di oggi è stato possibile visitare gli ambienti e i laboratori presenti all'interno dell'istituto scolastico. Il dirigente Angela Tuccio. L'Open Day serve a presentare la scuola oltre che al territorio così come normalmente si fa, a rendere gli stessi alunni consapevoli dell'importanza dell'apertura della scuola al territorio e renderli partecipi attivamente delle attività scolastiche. In questo modo loro diventano i protagonisti. Tantissimi progetti portati avanti nella nostra scuola, progetti che vanno dai laboratori musicali, laboratori multimediali, laboratori di ceramica. Quest'anno tra l'altro grazie agli insegnanti dell'organico di potenziamento abbiamo potuto attivare una serie numerosa di progetti volti sia al recupero che all'eccellenza dei nostri studenti. Per cui saranno veramente eseguiti, si realizzerà all'interno del terzo circolo veramente la didattica della one to one perché riusciremo a condurre quasi per mano i nostri studenti al successo. Quindi il terzo circolo come scuola di qualità, come scuola che segue gli studenti in tutto il loro processo di crescita. Ecco perché oggi siamo lieti di accogliere gli studenti, i futuri studenti e i genitori per far sì che facciano una scelta consapevole della scuola che porterà i loro figli sicuramente a traguardi importanti.